L'atto deliberativo di cui si parla non esiste, è facilmente riscontrabile dall'albo pretorio online dell'ASL Brindisi. I primi atti di questa direzione strategica, che voglio sottolineare, se insediata nella sua interezza il primo settembre, sono tutti atti concreti volti a risolvere annosi problemi. Così il direttore generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio Denuccio, getta acqua sulla miccia innescata dai sindacati sulla questione relativa ai gruppi di lavoro che si sarebbero insediati in azienda a partire dal primo settembre. Si tratterebbe di un fraintendimento, continua il direttore generale. Il fraintendimento nasce solamente da una nota interna dove si parla di gruppi di lavoro, ma volti a evidenziare una modalità che la direzione strategica intende adottare per risolvere problemi con gli operatori che lavorano nelle varie strutture aziendali. Si lavora in seno all'ASL Messapica per porre rimedio, si spela concreto all'emergenza e a tal proposito si ribadisce l'imminente arrivo di ginecologi al Camberlingo di Francavilla Fontana che saranno supportati da specializzandi, ma si lavora anche per il Perrino e per l'ospedale di Ostuni. Solo ieri c'è stato un incontro in regione che è stato di anticipazione rispetto a un'imminente delibera di giunta regionale che sarà approvata e che conterrà autorizzazioni ai piani assunzionali. Nel momento in cui sarà approvata la delibera di giunta procederemo ad assumere i ginecologi per cui abbiamo già una graduatoria pronta, delle disponibilità e almeno di due ginecologi e poi seguiranno gli specializzandi che saranno nel frattempo presi sia pure a completamento del percorso di specializzazione. Idem per chirurgia.